Mi aspetto che sia sicuramente una stagione molto impegnativa e con tante tante partite sarà sicuramente molto difficile, però noi cercheremo di arrivare il più avanti possibile in tutto. Non bisogna, io penso che la stagione scorsa è una stagione straordinaria, ovviamente, è storica, però è finita, quindi questa è una stagione nuova e non bisogna pensare a quello che è successo nello scorso, se si vuole fare bene bisogna pensare a questa stagione, bisogna pensare partita dopo partita, giorno dopo giorno. Non abbiamo fatto molto nel campo, però dagli schemi, insomma, a me piace perché è un gioco dove bisogna essere un po' intelligenti per sapere giocare con Romeo e a me piace perché è un gioco in movimento, trovare gli spazi e fare fare attenti. Io penso che quando ci sarà bisogno di entrare in campo e dare qualche minuto di respiro al lungo, poi il mio lavoro sarà molto in allenamento e dare una mano ai ragazzi dell'esperienza. Manuzzo in questi anni è importante avere qualcuno che tenga a balla i ragazzi, insomma, che gli metta qualche regola, qualcosa in più e insomma, se Manuzzo è riuscito a fare la squadra di giustizia, diciamo, io. Quando ci eravamo visti, era dieci minuti dopo la finale, ti chiedevo che sensazioni provabili e tu mi avevi detto che forse facevi fatica a dormire quel giorno. Sei riuscito a dormire dopo la finale? Ma poco, come ti vissi quel giorno lì è stata un'emozione talmente grande che è stato duro un po' per tutti i due minuti, però diciamo che alla fine ci siamo abituati all'idea ed è andato tutto molto... l'estate è andata molto bene. Ma ovvio che la voglia di ripetersi comunque tanto, non siamo appagati. ovvio che adesso l'importante da parte nostra è cercare di accantoare un po' quello che siamo fatto. non dico dimenticarlo, però comunque focalizzarsi in più su quello che avverrà e sul momento. ovvio che abbiamo fatto una cosa di importante, però c'è ancora tanto da lavorare e vogliamo migliorare. Ma alla fine sarà sempre il campo a decidere, a dimostrare chi era più forte e chi era meno forte. però ovviamente le permesse ci sono perché ci sono giocatori che sono campioni che hanno giocato in squadra molto importanti, l'NBA. Ma lo speriamo, anche se averci giocatori di grana nazionale molto spesso ti li fa avere più pronti dal punto di vista fisico. Quello che penso è che avere la possibilità di lavorare al completo, nel senso che ci siano dei giocatori che vanno a giocare in altri ruoli, sia una cosa che ci può aiutare. L'anno scorso siamo partiti bene in Supercoppa perché ogni giocatore avrà portato il suo ruolo, per cui alla fine mi piacerebbe che succedesse la stessa cosa quest'anno. Quando ti metti lì a fare una squadra speri sempre che possa essere migliore della precedente, perché altrimenti non va a fare questo in quella maniera. Quello che dico io è che l'anno scorso è ripetibile a avere dei risultati, nel senso che fare il tripleto e fare quello che è successo è una cosa che passerà alla storia, per cui bisogna avere anche il realismo e capire che comunque sia questo per quanto possa essere una squadra composta da buoni giocatori, in primis deve diventare squadra e in seconda battuta si trova ad avere sulle spalle una realità abbastanza scomoda. Una domanda tecnica, pensa che Logan quest'anno potrebbe monopolizzare anche la di più gli attacchi? La grande qualità di Logan è che è un giocatore che può aspettare, non è un giocatore che va in ansia se non tocca la palla. La squadra dell'anno scorso in alcune situazioni diventava un po' complicata con la guardia terratrice, devo dire che lui era sempre pronto e specie nel playoff diventava decisivo negli ultimi 7-8 minuti della partita. Io penso che lui sia un altruista, non un egoista, di conseguenza per quelle che sono le sue caratteristiche, per quelle che sono i modi di stare dentro il campo, sicuramente credo che sarà una pedina importante ma non credo che monopolizzerà mai il nostro attacco perché non fa parte le scuole. Mi sono trovati subito dal primo giorno praticamente, dal primo giorno che siamo qui al GeoVillage, comunque un tipo di gioco a cui sono abituato finora, adesso bisogna vedere sulle transizioni magari su quanto vuole correre il contropiede e tutto, visto che è un tipo di gioco molto veloce e cerco di adattarmi al 100%, anche perché sono un giocatore versatile che cerca di adattarsi e fa quello che dice il coach, quindi sotto questo punto di vista non credo di avere alcun tipo di problema. che è una prima volta, in cui ho avuto un' tedesco, ecco, un'esperta di queste sfini che ho avuto l'italia e le figate, poi erano un'esperto, l'alimentazione, a passare l'alimentazione di queste cose ha venuto l'italia della scena, l'alimentazione che venivato l'alimentazione, ma è un'esperta di lavorare working in practice hard, every practice gelling together as a team and putting this together so we can try to repeat this season.